Lasciamo Roma e trasferiamoci in Piemonte per seguire questa intervista al Governatore Roberto Cota sulla situazione della sanità regionale. Presidente, una domanda su quello che ha detto prima, ha lasciato un allarme sui fondi per il prossimo anno? Beh, l'abbiamo detto anche ieri come regioni al Presidente Letta, non è pensabile che sull'anno prossimo ci sia un taglio da un miliardo sul Fondo Sanitario Nazionale che si ripercuote poi sulla regione e sulla nostra regione. Noi abbiamo fatto tutte le riforme necessarie e le stiamo facendo, ma i miracoli non si possono fare. Lo stesso con riferimento all'edilizia sanitaria. Vanno erogati i fondi previsti, c'è la Città della Salute di Torino da realizzare, c'è la Città della Salute di Novara ed è inutile accampare scuse di carattere burocratico. I progetti sono stati tutti depositati e quindi devono essere finanziati. Lei ha parlato anche della, ha ribadito la necessità di riconvertire quelle piccole strutture che purtroppo oggi non sono più in grado di sostenere una sanità all'avanguardia. Io quello che ho detto l'ho detto anche con la forza di chi si è preso le necessarie responsabilità e quindi sta facendo le riforme, le sta spiegando alla gente e quindi noi la nostra parte sulle inefficienze la stiamo facendo. Una delle cose che stiamo mettendo in pratica è proprio quello di riconvertire i piccoli ospedali in strutture poliambulatoriali. Questo risponde a un'esigenza non soltanto di contenimento dei costi ma anche di sicurezza perché gli ospedali devono essere il più possibile strutture integrate perché è chiaro che se c'è un'esigenza che è una conseguenza di una patologia acuta bisogna farvi fronte. Tornando al capitolo dei tagli, lei ha detto che la situazione sarebbe ingestibile. Per tutte le regioni sarebbe ingestibile perché evidentemente costringerebbe a ridurre ulteriormente gli stanziamenti per quanto riguarda la sanità e costringerebbe a cambiare il modello di sanità. Allora un conto è l'efficienza dei servizi, altro è cambiare il modello di sanità. Appena visto questo esempio di alta tecnologia, impressionante. Sì, in senso positivo, ovviamente impressionante in senso positivo. L'alta tecnologia si può fare in Piemonte perché abbiamo una grande competenza che ritroviamo nel nostro personale e noi siamo i primi posti anche per questo motivo dal punto di vista della qualità.